Ciao a tutti. Questo è un vecchio Sada 15 Mimeograph. Potremmo dire che è un ancestro di copiatori. Sada non è una brand molto famosa. È un manufattura italiana fondata in Milano, Italia nel 1927. Qui possiamo vedere anche il modello e il numero di numeri. Con questo logo possiamo anche vedere che il periodo dovrebbe essere circa 30 anni dell'ultimo secolo. Qui c'è il prodotto in Italia e il litorio bundle, un simbolo fascista. Sada survived la guerra e, in fin di 50 anni, dopo essere parte della compagnia pubblica IRI, l'instituto per l'industria ricostruzione, diventano un subsidiario di Olivetti. Con Olivetti, Sada realizzò la produzione di duplicatori, anche alcool e ink. Ma non erano reali copiatori, erano duplicatori. Si usavano la Mimeograph tecnologia, che richiede la preparazione preliminare di una matrice, di cui molte copie possono essere fatte, ma che non permette la riproduzione di un documento. In questo catalogo di 1963, you can see all the office devices of that period, calcolators, tire writers, e i moderni SADA modelli di duplicatori. In questo catalogo, l'Alco duplicatore è describito come un'indispensabile accesso di un tie-writter. Non è qualcosa che puoi usare solo, perché bisogna un tie-writter o some tools per preparare la matrice. Se guardate al catalogo del 1950, vedete alcune parti spare per SADA e le pensi per preparare la matrice, con diversi tipi, per avere diversi designi. Quindi bisogna preparare la matrice con il tie-writter o usando la mano con la pen. In fine, la matrice potrebbe sembrare così, come questo, potete vedere su questo guest head nerf, ma capisci che è molto limitata. O c'erano dispositivi complicati come questa SADA identica. È describito come copia, ma basicamente è una macchina fotografica con un darkroom inclusivo. È lentamente e costante. At the beginning of 60 years, Japanese and US ruled on this copier market. Olivetti cannot afford this market with duplicators, and start to build more modern copiers. In this Olivetti historical catalog, you see the development of the Olivetti approach at the copier market. Till 1965, there are SADA duplicators. From 1966, Olivetti start to introduce a new range of copiers, from the copier to on, using photosensitive paper. Now, let's see our SADA mimeograph. You raise the advancing roller with this handle. You can regulate the dimension of the sheets with these handles. In this duplicator is missing the bottom part with the pressure roller, but basically the sheets of paper go through the machine under here, and they go out in the big tray here. This tool is to remove the exit paper tray. With this lever, you rotate the big rollers with the matrix. This is a handle to move this needle. It means high and low. It means how many pressure you want on the copy. This is a counter for the copies. This lever is if you don't want to count the copies. The counter doesn't advance. Very heavy, completely in full metal, but it's always nice to see these devices moving. Thanks for watching. Have a nice day.